Albano ha scelto di passare il Natale e le altre festività con la famiglia legata a Loredana Lecciso, Romina intanto ha detto la sua sui social Uno sfogo che non è passato inosservato quello di Romina Power. Albano Carisi, il suo ex marito ha scelto di passare le feste più belle dell'anno con la sua ex, Loredana Lecciso La storica rivale di Romina Power d'altronde lo aveva già svelato in numerose interviste e Albano aveva espresso la sua intenzione di passare le vacanze insieme a Romina e Loredana Lecciso Loredana è la foto con Albano e la sua famiglia.Loredana Lecciso non ha voluto aspettare a lungo La foto con Albano Carisi la condivisa subito sui social per sottolineare ancora una volta la scelta che il cantante ha fatto nei suoi confronti La bella showgirl ha postato la foto con la sua famiglia al completo, il suo ex e i loro bellissimi due figli Romina Power ha infatti scritto sul suo profilo Instagram che il suo cuore era veramente triste L'ex moglie di Albano non intendeva dire che la sua tristezza dipendeva dal fatto che il suo ex avesse deciso di stare insieme a Loredana, ma la sua tristezza dipende invece dai grandi mali del mondo . Romina e lo sfogo su Instagram.La cantante con un lungo e commosso post ha voluto però anche sottolineare di quanto ci sia di bello nella vita Infine, augurato a tutti un buon Natale! Romina però molto probabilmente non trascorrerà con Albano nemmeno il giorno di San Silvestro Loredana ha deciso infatti che a storia italiana aveva rotto il silenzio su Albano, aveva infatti dichiarato di pensare di trascorrere anche il 31 dicembre insieme al suo ex fidanzato Chissà se quanto anticipato si confermerà! Ecco la foto di Loredana con la famiglia al completo Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like!